Assessore Veri, quali nuovi interventi per due reparti dell'ospedale San Pio di Vasto? Sì, sono di nuovo qua presso questo presidio, qui stiamo rivolgendo un'attenzione importante sia per quanto riguarda l'incremento delle attrezzature sofisticate e sia per quanto riguarda l'aumento del personale. Ho visitato due reparti, il reparto di urologia e di cardiologia dove oggi sono state consegnate due strumentazioni all'avanguardia ma soprattutto dove ho apportato anche la notizia che si stanno svolgendo i concorsi per i nuovi medici, nuovi specialisti in questi reparti. Ho avuto modo di capire e rendermi conto che è stato messo in atto una rete importante per quanto riguarda la diagnostica in ambedue le discipline, una rete di hub e spoc tra l'ospedale di Chieti, il presidio dell'ospedale di Chieti e quello di Vasto e soprattutto un'integrazione sul territorio attraverso alcuni progetti importanti. Poi sono qui questa mattina a comunicare una notizia che ho appena ricevuto dal Ministero della Salute dove il NIV, il Nucleo di Valutazione, ha valutato in maniera positiva quelli che sono i nostri accordi di programma presentati ed è la prima volta che un NIV si pronuncia in questi termini nella nostra regione Abruzzo. Quindi nuovo ospedale di Vasto si farà? La valutazione del NIV per gli accordi di programma è relativa ai nuovi ospedali di tutta la nostra regione dove è incluso anche il nuovo ospedale di Vasto per cui adesso si avverranno tutte le ulteriori procedure. Riguardo ai fondi erano stati posti dei dubbi? Si sente di fugare? Assolutamente, nessun dubbio. L'unica prescrizione che ci è stata fatta è che purtroppo negli ultimi mesi, come tutti sanno, abbiamo avuto un aumento delle materie prime. Per cui ci hanno chiesto di dare l'aumento valutato in base all'aumento dei costi delle materie prime. Cosa che abbiamo già fatto, abbiamo messo questi fondi, è stata fatta una delibera e un aumento che senz'altro andiamo a coprire con delibera. Invece sui conti della sanità abruzzese si sente di escludere tagli? Guardi, proprio adesso ho inviato un comunicato dove abbiamo chiuso l'anno 2021 in avanzo di 16 milioni. Stiamo lavorando per gli equilibri del bilancio del 2022.